Fratelli e sorelle tutti ben ritrovati, ci prepariamo alla terza domenica di Pasqua. Mediteremo il capitolo 24 di Luca dai versetti 35-48. I due discepoli di ritorno da Emmaus narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Il testo richiama il brano precedente, ossia di quanto avvenuto ad Emmaus dove i discepoli avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane e dopo aver sentito ardere il cuore mentre lui conversava con loro lungo la via. Non dimentichiamo che i due discepoli rassegnati avevano abbandonato il gruppo, avevano abbandonato Gerusalemme ed erano pronti a ritornare alla loro vita convinti di avere fallito nel seguire l'avventura con Gesù. Ebbene sono loro che torneranno di corsa a Gerusalemme e andranno dai loro compagni, i discepoli. La testimonianza di questa grande novità giunge dunque da due pentiti e non è facile credere e accettarlo. Capita anche a noi in fondo di etichettare le persone, di sottolineare le loro fatiche, le loro fragilità, le loro incoerenze e quindi di non dar retta alla loro parola. Eppure, mentre i due parlavano di queste cose, Gesù in persona stetti in mezzo a loro e disse pace a voi. Proprio come nell'esperienza di Tommaso di domenica scorsa, Gesù sta in mezzo, si pone a fondamento dell'esperienza dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E non importa se loro ritrovarsi insieme è carico e segnato dal dubbio e dalla fragilità, Gesù sta in mezzo e dona pace, shalom. Proprio quella pace che hanno cantato gli angeli a Betlemme. Ora Gesù in persona la dona a tutti. Pace indica quello che concorre alla pienezza, alla felicità delle persone. Gesù offre loro questo dono perché lui stesso è pace, pienezza di umanità. Un uomo sente pace quando ha trovato ciò che stava cercando. È una forza pacifica che nasce e sostiene dall'interno. Sconvolti, dice il testo, e pieni di paura credevano di vedere un fantasma. La difficoltà dei discepoli è quella di pensare di vedere un fantasma, cioè uno spirito, una persona non vera. Non colgono che in Gesù si realizza la profezia di Isaia. Ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete. Gesù infatti dirà, perché siete turbati? Perché sorgono dubbi nel vostro cuore. Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Ancora una volta dunque, mani e i piedi mostrano l'identità di Gesù, indicano che lui non è un altro, ma è il crocifisso risorto, proprio come con Tommaso. Sono io, è il nome di Dio, il nome che Dio ha rivelato a Mosè. segni che Gesù non nasconde, ma rappresentano il suo vissuto, il suo timbro, la sua carta d'identità, la storia che anche qui i discepoli hanno costruito con le loro scelte. Gesù continua, toccatemi, guardate, un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. E dicendo questo, mostro loro le mani e i piedi. La traduzione fantasma non rende bene. Il greco dice pneuma, cioè spirito. Ebbene, loro non pensano che sia una persona reale, ma un qualcosa di questa persona, un'anima, uno spirito, un'emanazione. No, qui c'è Gesù in persona e lui manifesta tutta la sua pazienza. Aiuta i discepoli a aggiungere la consapevolezza della realtà della risurrezione. Lo ha fatto con i discepoli e oggi lo fa con noi, che talvolta, o forse troppo spesso, dubitiamo. Pensiamo anche noi che sia un fantasma apparso. No, no, la risurrezione è Gesù stesso in corpo e anima. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, Gesù aggiunse, avete qualcosa da mangiare? E gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Lo prese e lo mangiò davanti a loro. Questo per far capire la concretezza di Gesù. Attraverso questi segni, Gesù vuole capire che lui è reale e lo fa per aiutare i discepoli a superare il loro dubbio e ad aprirsi al dono della fede. Poi disse, sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me, nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Gesù dunque fa capire che in lui si realizza il progetto del creatore, quel progetto trasmesso di generazione in generazione, a iniziare da Adamo ed Eva. In Gesù si è realizzato fino in fondo il sogno che Dio aveva nei confronti dell'umanità, quell'uomo fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore. E così aprì loro la mente per comprendere le scritture. Così sta scritto, il Cristo patirà, risorgerà dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono di peccati, cominciando da Gerusalemme. Il verbo aprire nei vangeli ha sempre un valore terapeutico, è utilizzato da Gesù per i miracoli. Egli apre la vista ai ciechi, apre l'udito ai sordi. Anche qui Gesù guarisce i suoi e li guarisce dalla fatica del credere, del non comprendere la scrittura. Oggi Gesù apre a noi l'udito, la vista, la mente, il cuore. Sciocchi e tardi di cuore, ha detto Gesù ai discepli di Emmaus. Sciocchi e tardi di cuore, lo dice a noi oggi, invitandoci però a rileggere la storia e a condurci a un'autentica esperienza pasquale. Imparare dunque a riguardare alla Pasqua come la nuova alleanza, il nuovo patto che Dio sigilla con noi, quel Dio buono e misericordioso. Vedete, nella prima lettura, tratta dal libro dell'Apostolo Pietro, anche per noi vale la stessa cosa. Dice Pietro, io so che voi avete agito per ignoranza, avete rinnegato il santo e il giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Agire per ignoranza, rifiutare Dio, porta a credere ad altro, porta a scegliere Barabba. Come a dire, se rifiuti Dio, comunque sia, sceglierai un altro perché non puoi vivere senza un progetto. Come Pietro, anche a noi il Signore rivolge le stesse parole. Per ignoranza, state agendo, stiamo agendo in maniera sbagliata. Per ignoranza, rischiamo di volgere le spalle a Dio ma di abbracciare un idolo. Se solo comprendessimo questa parola, diventeremo veramente anche noi testimoni. Di questo voi siete testimoni del fatto che Dio ci ama e ci ha perdonati nel suo amore misericordioso. Cristo doveva risoffrire. Convertitevi e cambiate vita perché siano cancellati i vostri peccati e possiate narrare con la vostra vita che Dio è amore misericordioso, che Dio ha fiducia di noi. Risplenda allora, Signore, su di noi la luce del tuo volto, canteremo nel Salmo. Cari fratelli e sorelle, carissimi amici, che cosa vuole dirci il Signore attraverso tutto questo? Che Lui ha fiducia e ha pazienza di fronte alle nostre fatiche, ai nostri dubbi, alle nostre difficoltà. Fidiamoci, abbracciamoci alla sua misericordia, lasciamoci abbracciare dalla sua misericordia, perché come ricorda Papa Francesco, una volta che saremo misericordiati diventeremo anche noi misericordia. Non temiamo dunque le nostre fatiche e difficoltà. Dio attraverso queste saprà fare grandi cose con noi e per noi, perché attraverso questo corpo segnato dalla fatica e dalla difficoltà, Dio saprà parlare a tutti, con amore e con pazienza. E allora non temiamo, non parliamo di Dio a chi non ce lo chiede, ma viviamo in modo tale che prima o poi, vedendoci vivere il Vangelo, ce lo chieda. Di fronte a questa parola, così carica della pazienza di Dio, della sua fiducia e del suo incoraggiamento, come rispondiamo? Lo faccio come sempre con due perghiere. La prima è la colletta che noi ascoltiamo dopo il canto del gloria e che riassume il messaggio di questa domenica. O Padre, che nella gloriosa morte del tuo figlio hai posto il fondamento della riconciliazione e della pace? Apri i nostri cuori e le nostre intelligenze alla scrittura, perché diventiamo testimoni dell'umanità nuova, pacificata dal tuo amore. Avete sentito come ritornano i testi biblici? La gloriosa morte? Gesù fondamento della nostra riconciliazione della pace? Gesù che apri i cuori all'intelligenza delle scritture come ha fatto con i due di Emmaus, per renderci testimoni. Tutti siamo resi testimoni. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera che ho composto auguro a voi tutti una buona domenica. Signore Gesù, parola di verità e di vita, quanto sono anch'io stolto e lento a credere. Fammi comprendere che solo la tua parola dà un senso agli eventi della vita. Apri dunque il mio cuore all'intelligenza della scrittura. Donami umiltà nell'ascoltarla, pazienza nel meditarla, sincerità nell'aderirvi, coraggio nel testimoniarla, affinché misericordiato da te diventi misericordioso con gli altri. Questa è la missione che mi affidi. Gesù, confido in te.